Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo sul secondo tutorial e oggi di cosa parliamo? Parliamo bensì di come ottenere gratuitamente gemme su Clash of Clans, Clash Royale o altre gemme su altri giochi Come si farà? Allora, vi so subito che è un metodo simile ad Free My Points, però non chiudete questo video, fermi È un metodo molto, ma molto, ma molto più veloce Cosa vi basterà per avere questi punti? Allora, innanzitutto apriamo questa applicazione Come potete vedere, pronto, si apre così e io ho già 4.920 punti, che equivalgono quasi a 1€ Come ottene... Allora, cosa ho detto? Come avevo appena detto, 1€ in buono regalo a Amazon sono 7.540 punti E noi siamo già quasi lì, però io non vi voglio comprare quello, ma bensì se riesco ho una 20€ di Amazon Oppure una semplicissima iTunes Allora, arriviamo alla fatidica domanda Come si ottengono i punti? Allora, innanzitutto, premessa Non ottenete i punti scaricando applicazioni Perché, come metto il mio amico Matteo Melzi, se riesco vi lascio il canale in descrizione Perché, grazie a lui, ci sto facendo questo tutorial Non scaricate le applicazioni, ma bensì come si ottengono questi punti Allora, semplicemente, voi andrete, che ne so, su Invite Friends Il quote sarà il vostro codice Per esempio, il mio è questo Anzi, mi fate un bacione se lo inserite Perché, almeno, mi date una mano per salire dei punti E, attenzione, perché io riceverò 1250 punti Che sono circa 20 centesimi, quindi è già tantissimo E voi riceverete 1250 punti Quindi, partete già con un boost Come funziona? Allora, ogni volta che ognuno inserirà un vostro codice Voi ne potete inserire un altro E, cosa voglio fare in questo video? Voglio farne un po' una chat di questa applicazione Nel senso che ognuno potrà lasciare il suo codice in descrizione In descrizione, sì, ciao, nei commenti E, ognuno, poi, leggendo i commenti Potrà inserire il codice dell'altro Appena avrà la possibilità di inserirlo Così ci faremo subito tanti punti E quindi, anche, in differenza, tanti gif che dovrebbero leggere Altre cose, non lo so Ah, giusto, giusto Ogni giorno vi darà un daily reward di 100 punti 100 punti sono abbastanza E non so quanti centi mi valgono circa Però sono abbastanza, sono tanti Ogni giorno, per i primi sette giorni Riceverete, no, sei giorni Riceverete 100 punti Gli ultimi due riceverete 500 o 1000 Che, con un calcolo matematico Molto matematico Sono un totale di 2100 punti Credo, qualcosa del genere Comunque ho appena fatti i conti Quindi, dovrebbero essere un totale come 2600 punti Che sono Con i miei punti Con i miei punti Che sono circa No 40 centesimi Quindi, è già tanto Giusto Poi, per ottenere altri punti Potrete guardare 10 video ogni giorno Che vi danno 10 punti Che comunque, sono tanti Qua, trovate la pagina dove si possono comprare Tutte le cose che potete ottenere Infatti, quando raggiungete i punti Cliccate Voi dirà Redeem Cliccate E basta Stupendo Meno 2620 Va bene Quello che dovevo dire, ragazzi L'ho detto Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto Non esattatevi dicendo Oh, clickbait XD Non è vero Un po' il gemme Come fai? Ma muori malissimo XD Perché l'ho messo anche tra parenti Prentesi, aperta parentesi Pronto Quindi non mi rompete i maroni Grazie E niente ragazzi Io vi lascio al prossimo video Al prossimo tutorial Ciao Ciao